Non capisco chi che entra nella macchia Secondo tempo abbiamo perso nei minuti non collegati il gol di Kambuka che ha accorciato le distanze per il Real Palermo 3-2 quindi per i tic tac Un telecronista Non ci siamo persi Non ci siamo persi invece purtroppo l'espulsione di Tonino alla torre Il nostro salta è la ufficienza di Dio, per quanto riguarda il Galermo Sì, non c'è. Non si è sempre solo, vedi, eh? Stai tu! Ok, viste? No, guarda che era la quattro... Va bene, va bene! No, guarda, guarda! Te non so fuori squadra, te? No, guarda, guarda, guarda! Ma è nata, aici ciò... Guarda che hai squadra... Taccato, taccato! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni... Vieni, 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 vieni... Io non ho sparatato comunque... Guarda, guarda... Ancora Patellaro. Di chi è il gol? Patellaro. 3 pari. Ancora Patellaro. 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 Ancora Patellaro.